Lo sportello del cittadino è a Taranto, in zona tramontone. Questa bellissima iniziativa di Siamo Taranto, in collaborazione con Chima Ambiente Amio, una pulizia della favolosa, meravigliosa Baia del Tramontone. Vedete? Proprio abbiamo colto in flagranza, dico per dire, ovviamente, i nostri amici di Siamo Taranto con un bel saccone. Sono i rifiuti che avete raccolto nella vostra attività di bonifica. Come è andata oggi? Siamo felicissimi perché abbiamo veramente trascorso una giornata bellissima. Siamo un gruppo numeroso e abbiamo raccolto tanti rifiuti. Questo per noi è un luogo del cuore perché ci ritorniamo spesso. Luoghi dell'infanzia? Più che il luogo dell'infanzia, è il nostro luogo dove abbiamo iniziato la nostra prima attività due anni fa, quando ci siamo riuniti con l'associazione. C'è un dato affettivo perché è veramente un luogo incantevole che va preservato e protetto. Vediamo cosa c'è qui dentro. Qui abbiamo degli sfalci di potatura. Ah, ecco, qui è roba di potatura. Sì, perché abbiamo con un decespugliatore anche, diciamo, ripulito una parte dei cigli che portano in quest'area meravigliosa, al di là di quelle barriere che vedete. Ora ci andremo, ora ce ne sono uomini e donne, ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani. Sì, 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 siamo tutti qui, portiamo anche le bimbe per proprio avvicinarle alla cultura e al rispetto dell'ambiente che ci circonda perché è già deturpato di suo, diciamo, quindi noi cerchiamo di di bonificare, di portare una mano e un aiuto, diciamo, sì. Bonificare e anche sensibilizzare perché oggi ci hanno visto tantissimi bagnanti. Dare l'esempio. Esatto, esatto. Gli esempi positivi sono contagiosi, infatti noi su quello puntiamo. Questi sono i contagi che vogliamo e che aumentino sempre più. Grazie a tutti.